Infrastrutture, risorse umane e rivoluzione urbanistica, i giovani costruttori Ance riuniti a Salerno alla stazione marittima per l'ottavo convegno del mezzogiorno. Le tavole rotonde hanno visto la presenza della presidente Ance Federica Brancaccio e del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Un'anime soddisfazione per il cambiamento del capoluogo, come precisa il consigliere regionale Luca Cascone. Io credo che Salerno sia al centro di una grande trasformazione urbanistica per quello che riguarda il comparto edilizio e quindi ovviamente la realizzazione di tanti intervetti di iniziativa privata. E al contempo tante opere pubbliche, dal ripascimento del lungomare, a Piazza della Libertà appena conclusa, alla nuova metropolitana che arriverà fino all'aeroporto, all'aeroporto stesso che ovviamente è un pezzo del progetto infrastrutturale, Porta Oves che è in fase di definizione, manca Porta Oves 2 che sarebbe la realizzazione dei parcheggi nell'area della Cava, abbiamo il prolungamento del Tincerone in direzione centro storico, insomma ci sono tanti progetti di opere pubbliche a Salerno che faranno coppia con gli interventi di riqualificazione urbana. Il delicato momento politico che sta vivendo l'Italia non deve rallentare la realizzazione delle tante opere in programma, precisa Cascone. È chiaro che la burocrazia rallenta la macchina, quindi quando non c'è un governo operativo questo può creare difficoltà. Speriamo che ciò non avvenga per quello che riguarda i fondi già pronti e già destinati alle regioni, ma monitoriamo con attenzione anche questo caos.